Turismo, dati sfalsati delle presenze attive in città. E giunse il momento di affrontare il tema turismo con tutte le parti che condividono il settore economico a Siracusa. Tutto scaturisce da una lettera di protesta composta da dieci responsabili delle strutture, alberghiere e cittadine. Gli albergatori di Siracusa denunciano chiaramente di una situazione critica in cui versano le loro strutture e ritengono non veritiera la forte presenza turistica in città. Nelle more gli albergatori risentono della crisi di presenza turistica che si acuisce di anno in anno inversamente proporzionale al cosiddetto boom turistico. Dai dati in loro possesso gli albergatori accusano un calo rispetto agli anni precedenti in media il 30% che non si rendono affatto sereni. Costoro avevano programmato delle assunzioni temporanee di personale per la stagione estiva ma sono stati costretti ad annullare per carenza di prenotazione. Per loro ancora insiste un turismo mordi e fuggi. Ed ecco la proposta degli albergatori, quella di una serie di riflessioni anche per il nuovo assessore al turismo Fabio Granata. Cresce intanto il fenomeno del sommesso, cioè di quelle strutture ricettive abusive o non dichiarate che per il responsabile della lettera aperta sono causa della consistente riduzione delle prenotazioni alberghiere e conseguentemente della riduzione dei posti di lavoro penalizzando di fatto tutto l'indotto. Il sindaco Francesco Itali e l'assessore al turismo Fabio Granata incontreranno all'Urban Center di via Bixio i titolari di alberghi e strutture ricettive per discutere dei servizi turistici e delle problematiche del settore. L'amministrazione punta a raccogliere idee e indicazioni per migliorare le eventuali criticità che emergeranno dal confronto con gli operatori, appuntamento che segue i precedenti su Piazza d'Arme e Parco Robinson si terrà giovedì 26 alle 10. Gli albergatori chiedono che il fenomeno del sommerso venga affrontato con serietà come lo fu nei primi anni 2000 con il proliferare del sommesso che raggiunse a Siracusa una dimensione di gran lunga superiore a quella di tutta la Sicilia che di dovere si attivi concretamente per fonteggiare la vicenda. Questo fenomeno può portare ad una crisi irreversibile del settore. Ci sono tanti esempi e iniziative da seguire di località turistiche rinomate che hanno saputo affrontare con serietà il sommerso. Per contrastare l'abusivismo del settore le autorità preposte devono avviare una mirata serie di controlli e sanzioni affinché si possa migliorare il settore alberghiero ancora agli albori nel Siracusano. Saranno capaci i nostri amministratori dai loro programmi elettorali e trasformarli in fatti concreti come recita una locuzione latina verba volant e scripta manent.